Cari amici bentornati ad una nuova puntata di Pagine di Vita e non poteva aprirsi che con un'immagine della Santa Famiglia, della Sacra Famiglia e dunque che si riferisce al Natale, l'ultimo numero prima del Natale. Ricordiamo che questo numero, quello uscito domenica 17 dicembre, è l'ultimo numero prima della ripresa che sarà il 7 gennaio, quindi abbiamo due settimane di pausa del nostro settimanale e quindi con questo numero ci auguriamo già il Buon Natale. Infatti apriamo proprio con gli auguri del Vescovo, gli auguri di Natale non siano solo di cortesia, trovate infatti nell'articolo di apertura il messaggio che il Vescovo Tardella è indirizzato alla diocesi, a tutto il territorio di Pistoia, ecco in vista del Natale. E che cosa dice il Vescovo? Beh intanto torna un po' a quel momento, all'evento decisivo della storia in cui è nato il Signore, un evento di amore umile, inaudito e povero, che avviene nel disagio di chi è fuori casa e in un alloggio di fortuna. Ecco in questo evento, dice il Vescovo, io leggo i tanti drammi del mondo, le mani sofferenze che le guerre e le ingiustizie creano ogni giorno, la cattiveria che uccide e sottomette. Penso a chi è solo, in questi giorni di festa sente aumentare la tristezza. Penso ai tanti stranieri che vagano nelle nostre strade. Penso infine con grande amarezza alle persone e alle aziende messe a terra dalle recenti alluvioni. In quell'evento antico, leggo però, afferma il Vescovo nel suo messaggio, anche la forza umile dell'amore, che si fa strada nel mondo come l'acqua che scende inesorabile verso il mare. Tutto questo mi scorre davanti agli occhi del cuore e allora sento che gli auguri di Natale acquistano un altro valore, oltre quello di una semplice cortesia di maniera. Diventa un appello ad accogliere il Signore Dio nella vita, accogliendolo nella fede e nel volto di ogni fratello e sorella che soffre, operando con tenacia per la pace in terra per tutti gli uomini amati dal Signore. Solo così, essi sono veri e sanno davvero di speranza. Ecco, degli auguri dunque inseriti dentro la complessità del nostro tempo, ma cheppure ci dicono nella povertà della mangiatoia, ecco, la forza dell'amore che salva. Ecco, accanto agli auguri del Vescovo, qui in prima pagina, trovate ricordati anche gli orari delle celebrazioni natalizie. Chiaramente ci siamo fermati a quelli della città, del vicariato del centro, nei quali trovate segnalati anche gli appuntamenti presieduti dal Vescovo. Infatti ricordo che il 24 dicembre, che quest'anno cade anche di domenica e quindi mette insieme la quarta domenica d'avvento con le sue celebrazioni domenicali la mattina e la veglia di Natale, con le celebrazioni natalizie la sera. Ecco, la veglia, la veglia natalizia sarà presieduta in cattedrale dal Vescovo Tardelli alle ore 23 e 15, quindi chi volesse partecipare all'accelerazione di Natale con il Vescovo, con la Messa della notte, ecco, può andare in cattedrale alle 23 e 15. Ricordo che poi il Vescovo celebrerà sempre in cattedrale il giorno di Natale alle ore 11, la Messa Pontificale della Solennità. Poi, ecco, ricordo che qui sono segnalati anche gli orari delle confessioni, delle confessioni nel centro città, in cattedrale e anche nelle altre chiese. Dunque, chi volesse vivere in stato di grazia, ecco, come raccomandiamo a tutti questa solennità, ecco, può seguire qui tutte le indicazioni, indicazioni che poi trovate anche sul nostro sito diocesano. E poi Natale è anche tempo di carità, di solidarietà. Qui nel piede della prima pagina trovate alcuni appuntamenti che sono stati organizzati dalla Caritas diocesana nei prossimi giorni. Il primo partiva lunedì 18 dicembre con una festa di Natale, un incontro al campo Rom del brusiliano, uno scambio di auguri con le famiglie che vivono nel campo nomadi del brusiliano. E poi ancora giovedì 21 dicembre un altro momento di solidarietà in cui gli operatori Caritas insieme ai giocatori professionisti del Pistoia Basket distribuiranno alle famiglie in difficoltà presenti alla cittadella della Carità al Tempio, cioè via San Pietro, dei piccoli doni. E poi ci sarà un momento di festa, di convivialità alle 18, questo ricordo giovedì 21, ecco alle 18 con bomboloni, cioccolata calda, popcorn, pizzette, insomma un momento per fare festa insieme. E poi ancora un terzo appuntamento presso la Chiesa del Tempio è invece venerdì 22 dicembre, quando alle 12 il Vescovo Tardelli incontrerà gli operatori dei centri Caritas e anche gli ospiti delle diverse strutture per scambiare gli auguri e per poi condividere con loro un pranzo di Natale. Qui trovate indicate anche gli estremi bancari, ecco per delle coordinate bancarie per contribuire a finanziare i servizi e le attività della Caritas diocesana. Insomma diverse le iniziative promosse dalla Caritas diocesana per farsi incontro a chi è più fragile, a chi è più in difficoltà. Ma restiamo in prima pagina perché nel box trovate una notizia importante che riguarda un capolavoro celebre del nostro territorio diocesano. Mi riferisco alla visitazione del Pontormo, ecco un dettaglio dell'opera che si trova nella pieve di Carmignano, alla parrocchia di Carmignano, dove però attualmente vive una situazione di rischio perché è necessario infatti realizzare dei lavori urgenti alle coperture della Chiesa. Le travi sono compromesse e dunque per salvaguardare questo capolavoro e le altri dipinti e le altre opere presenti in Chiesa è stata necessaria prendere una scelta importante e quella cioè di portare via dalla Chiesa i dipinti e metterli temporaneamente ecco in salvo presso il Museo di Palazzo Pretorio di Prato. Ecco una scelta questa un po' discussa perché certamente i dipinti e la visitazione lasciano il territorio per cui sono stati realizzati ecco dove sono sempre hanno sempre trovato posto ma si tratta appunto di una partenza temporanea necessaria infatti prima a realizzare alcuni lavori urgenti alla Chiesa e altri altrettanto necessari al complesso l'antico convento francescano di Carmignano. Una scelta ecco che trovate spiegato qui nell'articolo che è stata portata avanti di intesa con la soprintendenza dopo che altre opzioni maturate insieme al comune di Carmignano e cioè la Chiesa di San Luca, il Museo di Artimino e la stessa pieve di Artimino si erano ecco rivelate insufficienti comunque inadeguate ad ospitare ecco le opere presenti nella pieve di Carmignano. Dunque dalle prossime settimane dunque il capolavoro del Pontormo ecco sarà ospite al Museo di Palazzo Pretorio di Prato per garantirne la sicurezza e confidiamo ecco che possa essere trovata una soluzione urgente anche a ripristinare la Chiesa all'intero complesso perché torni ad ospitare i dipinti e essere aperti appunto ai fedeli a tutta la comunità. Ma andiamo avanti ecco nella lettura del nostro settimanale ci soffermiamo in pagina 2 dove l'apertura è dedicata a Andrea Torrigiani di Acono della nostra diocesi che il 5 gennaio 2024 ormai tra poco ecco sarà ordinato presbitero il passo più bello nella gioia di donarsi. Ecco qui vedete Andrea era il giorno del suo diaconato accompagnato dai suoi amici e ricordiamo che la celebrazione di ordinazione di Andrea ecco si svolgerà in cattedrale il 5 gennaio come ho già detto alle ore 18 sarà chiaramente presieduta dal Vescovo e concelebrata dal clero di Pistoia. Vi invitiamo tutti a questo appuntamento di gioia ecco per la nostra Chiesa locale e noi proprio questa settimana abbiamo realizzato un'intervista con Andrea che ecco ci aiuta un po' a capire il suo percorso e ci dà anche un po' la sua testimonianza. Ecco Andrea questo momento è davvero il culmine di un lungo percorso di formazione di preparazione che ecco ti ha accompagnato in questi anni. Dopo questo lungo cammino ecco quali sono le tue considerazioni? Com'è andata? Ecco che cosa poi possiamo cogliere da questo percorso? Beh innanzitutto sì è stato un percorso che ormai è da sette anni no nel quale sono sono in cammino e la considerazione più eh più forte che mi viene da fare è quella che anche se può sembrare una fare una frase fatta in realtà è stato un percorso molto bello eh soprattutto di crescita non solo nella fede e e nella vita spirituale ma anche eh nella vita umana e personale no se ripenso a a quando sono entrato nel nel 2016 eh cioè mi sembra veramente eh passata un passato un'era geologica invece ecco sono solo pochi anni no e quindi credo che il percorso di seminario è stato formativo sì eh spiritualmente eh sì per approfondire anche il mio rapporto il mio rapporto con con il signore ma ma soprattutto anche eh mi ha mi ha formato umanamente personalmente e e mi ha fatto anche anche crescere e questo credo sia una cosa una cosa fondamentale molto bella perché non solo riscopri durante questo percorso di seminario il rapporto con il signore ma anche un rapporto con eh ho riscoperto un rapporto con me stesso e e quindi ecco ecco credo sia una delle cose più belle che mi porto che mi porto dietro da eh da questo percorso. Ecco quando si tocca sempre il tema delle ordinazioni o comunque di questi momenti ecco di svolta della vita eh si tocca il tema della vocazione. Come se ne può parlare ecco oggi e che consigli potresti suggerire a chi si fa domande sul senso della propria esistenza sul cammino da intraprendere? Eh credo che soprattutto oggi come oggi parlare di vocazione è sempre no? Sembra sempre un bivio o entri in seminario o ti sposi. In realtà ehm cioè è bello riscoprire come in realtà la vocazione ricopre eh tutto tutta la nostra vita dalla eh dalla 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 nascita dal dire sì a eh al nel momento del del battesimo in cui i genitori no? Dicono il loro sì per il nostro entrare all'interno della chiesa però ecco credo che ehm oggi parlare di di come parlare di vocazione eh è una cosa che stiamo cercando di studiare no? Io sono anche all'interno del centro di Ocesano Vocazioni che sta cercando di di riprendere un po' eh questo questo aspetto ma credo che di fondamentale sia il se se passiamo un momento in cui non sappiamo bene eh quello che abbiamo dentro quello che eh che ci sta succedendo credo che sia fondamentale non avere paura di parlare io ehm credo che appunto anche guardando alla mia storia e alla mia eh alla mia non solo storia vocazionale ma anche personale credo che ecco eh a volte la la paura eh di del giudizio anche eh degli altri frena un po' in realtà eh credo che nel momento in cui si si parla nel momento in cui ci si sfoga con una persona eh di fiducia eh che può essere benissimo il sacerdote ma anche un'altra persona eh in parrocchia con la quale abbiamo un rapporto anche forte ecco credo che sia che sia fondamentale questo eh per per cercare di di comprendere e indirizzarci meglio anche in in quello che che teniamo dentro no perché poi alla fine dentro di noi abbiamo sempre un mondo di emozioni un mondo di cose e credo che ecco se pian pianino riusciamo a tirarne fuori sia sia fondamentale e e quindi ecco anche come come Centro di Oscesano Vocazioni cerchiamo di di restituire questa bellezza della vocazione che prende eh a tutto tondo il nostro il nostro essere dalle dalle scelte più piccole che può essere quella della della scuola no eh scegliere un istituto tecnico piuttosto eh che che un un liceo eccetera eh credo sia per poi anche anche passare alle scelte più importanti quindi a scelte che riguardano la propria vita e eh quel famoso per sempre che oggi magari facciamo anche un po' fatica a comprendere ma che poi porta una gioia nel cuore eh molto molto forte e e bella da poter anche condividere e dunque ecco salutiamo Andrea ricordiamo l'appuntamento del 5 gennaio alle 18 in cattedrale per la sua ordinazione presbiterale ma andiamo avanti nella lettura del nostro settimanale ci soffermiamo in pagina 3 dove trovate ecco un articolo dedicato a suor Benedetta Cinelli una religiosa eh di fatto sconosciuta nella nostra diocesi perché originaria peraltro di Chiesino Zanese e che ha lavorato primariamente oltreoceano in Brasile soprattutto a contatto con gli orfani e con i bambini di strada la sua vicenda è raccontata da Patrizia Fantacci che è diplomata della scuola di formazione teologica diocesana di Pistoia ed è raccontata da lei perché era l'oggetto del suo lavoro di tesi e quindi è un modo questo ecco di raccontare in fondo eh il lavoro che chiude un percorso di formazione eh diocesano quello della scuola di teologia che offre vari spunti questa è una tesi realizzata ad esempio in storia della Chiesa con la professoressa Mariangela Maraviglia quindi vi rimando a questa comunque molto interessante storia di suor Benedetta Cinelli a cura di Patrizia Fantacci rimaniamo sempre in ambito teologico comunque legato alla scuola di teologia perché martedì 19 dicembre alle 21 ecco sarà celebrata la seconda edizione del premio Frosini il comitato Giordano Giordano Frosini eh premia infatti il miglior lavoro di tesi che si distingue nell'aggiornamento teologico quest'anno il premio è andato al dottor Rocco Salemme autore di un testo legato al rinnovamento eh culturale e allo sviluppo teologico del tractatus oltre la metà del secondo millennio cristiano un testo certamente specialistico ma che sarà offerto ecco a tutti i coloro che interverranno nella serata di martedì una serata speciale perché vedrà la presenza eh anche di due eminenti teologi il dottor giuse il professor Giuseppe Lorizio docente merito della pontificia Università Lateranense e eh il professor Basilio Petrà già preside della facoltà teologica dell'Italia centrale appuntamento martedì 19 alle 21 nell'alamagna del seminario ma eh chiudiamo poi il nostro la lettura del nostro settimanale ricordando che qui nei nostri articoli in chiusura di pagina tre e poi pagina quattro eh trovate numerose indicazioni su i presepi eh mostre di presepi eh realizzati nelle nostre parrocchie diocesane si ricorda per esempio il presepe vivente che si svolgerà a Casal Guidi domenica ventiquattro dicembre nel pomeriggio dalle sedici alle diciannove e trenta e poi per l'epifania la mattina dalle nove e trenta alle dodici e trenta un presepe che coinvolge un po' tutte le realtà del paese e ancora mostre concorsi di presepi in parrocchia qua e là nel territorio di Cesano a Badia Pacciana mostra di presepi d'artista mostra di collezione di presepi di Don Baronti alla parrocchia di Sant'Angelo a Bottegone e poi ancora presepi realizzati dalle famiglie nelle parrocchie di Valenzatica e Violina e poi ancora moltissimi presepi da andare a scoprire alle piastre o nel borgo di Calamecca in Val di Forfora insomma tante le suggestioni ecco per vivere questo clima natalizio eh in maniera decisamente intensa io ricordo a conclusione di questa puntata che eh il nostro settimanale torna in edicola con il quotidiano avvenire domenica 7 gennaio e dunque colgo l'occasione per augurare a tutti voi un buon Natale e un felice 2024 grande e un felice 2024 grazie a tutti grazie a tutti